Contro i campioni d'Italia della Lube Civitanove. Per il volley femminile invece è tempo di campionato questa sera per la Liugio impegnata al Palapanini nel turno infrasettimanale contro Legnano. Tre vittorie altrettante sconfitte e la necessità di cambiare passo. La Liugio Normeccanica torna in campo questa sera tre giorni dal successo esterno di Osimo contro Filottrano. Al Palapanini arriva un'altra neopromossa, la sub volley Legnano. E l'imperativo è uno soltanto, vincere. Perché in questa stagione la squadra di Marco Gaspari non è ancora riuscito a farlo davanti al pubblico del Palapanini. Ma anche perché pur non sottovalutando l'avversario le due squadre sono state costruite per fare campionati diversi. Modena vuole stare nella parte alta della classifica e giocare per vincere Legnano cerca il miracolo che gli permetterebbe di rimanere in Serie A1. In Cascina vanno quindi messi tre punti ma anche i progressi cui questo gruppo ha decisamente rinnovato rispetto a quello che lo scorso anno ha sfiorato lo scudetto e chiamato. Il tempo per crescere c'è ma nel frattempo la new journal meccanica non può permettersi come invece è accaduto proprio nella passata stagione di perdere contatto con le prime della classe. Gli scontri diretti dicono che oggi la distanza rispetto alle squadre costruite per vincere è ancora tanta ma mentre passano le settimane le bianconiere cercano di colmare il gap l'obbligo è quello di non perdere punti per strada contro avversari che già ora sono invece alla portata delle modenesi. E con il volley femminile